Buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova edizione speciale del nostro VG21. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui negli studi di Canale 21 di Roma il dottore Gianmario Bertollo, presidente e fondatore di Legge3.it. Buonasera e ben ritrovato presidente. Buonasera Ilaria, grazie per l'invito. Allora, parliamo della legge 3 del 2012. Può dirci come interviene questa nella tutela del debitore in difficoltà? La legge 3 del 2012, come dice il nome stesso, ha 10 anni, è proprio in questi giorni il suo compleanno, anche se però è poco conosciuta in Italia. È una legge che appunto tutela le persone in difficoltà, quelle che hanno debiti che non riescono più a pagare. Non semplici debiti, ma quei debiti che in maniera permanente non si riescono più a pagare. Quindi la legge 3 cosa fa? Dà la possibilità al debitore di proporre un piano di rientro piuttosto che mettere a disposizione dei suoi beni in modo da pagare i propri debiti in maniera umana e stralciare quelli che non potrà mai pagare anche nel futuro. Com'è possibile aiutare i debitori e prevenire che questi si rivolgano ad aziende o a soggetti che promettono di cancellare senza sforzi i loro debiti? Senza sforzi non si può fare nulla e soprattutto le promesse clatanti non bisogna starne distanti. Vedo nel web, vedo in giro promesse del tipo ti salvo la casa, ti tolgo i debiti. Questo non è possibile o perlomeno non è sempre possibile. Bisogna dare sempre più informazioni come state facendo voi molto spesso e informare le persone su quali sono le caratteristiche che deve avere un professionista per poter portare la pratica davanti a un giudice ed avere la possibilità di essere approvata. Quanto il periodo che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria ha influito sulla capacità di riuscire a saldare i propri debiti? Molto. Venivamo già da un periodo molto difficoltoso dovuto alla crisi del 2008-2009. Alla fine del 2019, all'inizio del 2020, le famiglie sovraindebitate, cioè quelle che non potevano pagare i propri debiti in maniera permanente erano già il 10% del totale, quindi 2 milioni e mezzo di famiglie che hanno molta difficoltà. Questi due anni di pandemia hanno solo potuto ingigantire la cosa anche perché sono stati colpiti le attività più piccole i bar, i ristoranti e le imprese del turismo, quindi soggetti che già erano in difficoltà prima. Ecco, si parla poco delle aziende in crisi. Nell'Italia meridionale sono oltre 400.000 le aziende che rischiano di chiudere. Secondo lei perché non se ne parla abbastanza? Non vorrei dire brutte cose, quindi evito. Nel senso che non lo so perché non se ne parla. Si parla di tantissime altre cose e secondo me perché non ci si rende conto dei numeri effettivi. Proprio questa notizia parlava di 450.000 aziende in crisi di cui metà rischiano la chiusura. Se metà di queste 200.000 aziende chiudono, ma possiamo fare una media anche di 3-4 persone per azienda che perdono il proprio posto di lavoro, vuol dire che stiamo parlando di 800.000 persone che perdono il proprio posto di lavoro. Ecco, se cominciamo a guardare questi numeri, probabilmente se ne parla di più. Perché sono numeri impressionanti, ma fa più impressione un'azienda che chiude, che lascia a casa 200-300 dipendenti che 800.000 persone che stanno rischiando in questo momento il loro posto di lavoro. Bene, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Un ecosistema imprenditoriale, competitivo, digitale, sostenibile, inclusivo, collaborativo. Tutto questo è City Economy. In onda tutti i giorni alle 19.15 e alle 20.30. City Economy, la soluzione che vi guida e vi sostiene. E torniamo a parlare insieme al dottor Gianmario Bertollo, presidente e fondatore di Legge3.it. Allora, Gianmario, lo scorso dicembre è stato pubblicato il tuo terzo libro. Come è nata l'intuizione di scrivere questo volume? È la raccolta praticamente di cinque anni di esperienza in questo campo. Si chiama appunto Storie di ordinario sovraindebitamento. E raccontiamo come abbiamo risolto i casi di decine di persone appunto usando la legge 3 del 2012. È una raccolta di storie, andate a buon fine, di persone che abbiamo incontrato in questi cinque anni che avevano grossi problematiche di indebitamento e che sono riuscite a risolverle con la legge 3 del 2012. Infine, vogliamo ricordare a tutti i telespettatori come affidarsi a voi di legge3.it, quali canali seguire? Certo, chiamare il numero verde 866 25 18, attivo 24 ore su 24, oppure andare sul nostro sito internet www.legge3.it Bene dottore, io la ringrazio per il suo intervento e alla prossima. Prima di concludere ne approfitto di ricordare l'appuntamento quotidiano con Siteconomy, il nostro format di Canale 21, tutti i giorni alle ore 19.15 e alle 20.30. Grazie ancora dottore e alla prossima. Arrivederci.